Allora, carissimi antologici miei, continuiamo il nostro viaggio attraverso la metapoesia, cioè le poesie dedicate alla poesia, e il libro ci propone un'altra poesia con titolo commiato, come quella di Sabba che abbiamo visto prima, e andiamola a leggere. La poesia è di Giuseppe Ungaretti, uno dei più grandi poeti italiani del Novecento punto, sono assolutamente d'accordo, vissuto fra il 1888 e il 1970, e in questa poesia, che è dedicata a un suo amico che ha conosciuto in guerra, amico e commilitone, Ungaretti ha fatto la prima guerra mondiale ed è uno dei protagonisti delle sue poesie nel primo periodo della sua vita, qui mette in luce un nesso fra poesia e vita che ha la base della sua poetica, cioè del suo modo di scrivere poesie. Ogni parola per Ungaretti è scavata nel profondo della propria anima, cioè esce proprio come una cosa necessaria dal profondo, del proprio io, del proprio essere. Allora, questa è una poesia del primo periodo di Ungaretti, in cui Ungaretti, diciamo, rivoluziona un po' il modo di scrivere poesie, scrive versi brevissimi, poesie brevissime, tutte appunto come fossero parole scavate dal profondo, e non usava la punteggiatura, ok? Infatti vi propone il libro un esercizio. Questa poesia la punteggiatura è assente, ma leggendo devi fare delle pause per dare espressività al testo e per agevolare la lettura ad alta voce in una prima fase, indica con delle barrette i punti in cui collocare tali pause. Allora, Ungaretti, abbiamo detto, di Ungaretti vi voglio far vedere i libri che ho io, ecco, io ho questo qua, che è una raccolta... Aspetta, ti faccio vedere meglio, eh? Ecco qua. Adesso abbiamo, diciamo, la visione più corretta. Dicevo, un'edizione economica di tutte le poesie di Ungaretti, che è uno dei miei libri preferiti, diciamo la verità, e... Allora andiamo, ve la leggo io, dai. Allora, L'Ocvizza, il 2 ottobre 1916. L'Ocvizza è un luogo, ovviamente, della zona nord d'Italia, al confine con l'Austria, o addirittura in Austria, il 2 ottobre 1916, quindi durante la Prima Guerra Mondiale, a cui Ungaretti partecipò come soldato, Gentile, Ettore Serra, Poesia è il mondo, l'umanità, la propria vita, fioriti dalla parola, la limpida meraviglia di un delirante fermento. Quando trovo, in questo mio silenzio, una parola, scavata è nella mia vita come un abisso. Ok. Adesso, sa voi, leggerla e fare questo semplice esercizietto di inserire dove trovate che sia più giusto avere le pause. Ovviamente potrete anche sentirlo nella versione di Gertrude per farvi aiutare, ma vi prego, fatelo questo esercizio, cercate, diciamo, immedesimarvi in questo poeta immerso nelle trincee durante la Prima Guerra Mondiale. E qui ci sono alcune semplici attività che vi permetteranno di comprendere e analizzare. Ok. Perché la poesia è definita limpida meraviglia di un delirante fermento? Bene. Provate a rispondere. Nella seconda strofa ho ripetuto due volte un aggettivo. Quale? Perché, secondo te? Quale? 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 Si tratta di un aggettivo possessivo, quindi ce la potete fare. Va bene? Prova ad elencare almeno due caratteristiche di questa poesia che ti piacciono in modo particolare. Speriamo che ci sia. La poesia di Ungheretti si apre come se fosse una lettera. Prova anche tu a scrivere una breve lettera in versi ad un amico. Ragazzi, noto che nei compiti che mi mandai di antologia l'esercizio di scrittura non lo fa quasi nessuno. Non mi piace. Provateci. Le poesie sono brevi, facili da fare. Non devono mica venire belle da premio Nobel, però come esercizio direi che ci può stare. Allora, Giorgio Caproni, poeta, diciamo, un po' più giovane di Ungheretti, ma insomma più o meno dello stesso periodo. C'è una poesia brevissima intitolata Le carte. Il poeta si interroga sullo scopo della poesia, insinuando il dubbio che essa non sia altro che uno stravolgimento della realtà. Cos'è la poesia? Andiamo a vedere. Può essere semplicemente un prendere in giro le cose, un prendere in giro le persone. Allora, Giorgio Caproni, ecco qua, qui abbiamo un libro in un'edizione economica degli anni 70 o 80, non credo anni 70, insomma, niente di particolarmente di valore, ma dal punto di vista artistico senz'altro sì. Ok, allora, vi leggo anche Caproni, rimango a faccia grande, tanto la leggo lo stesso. Imbrogliare le carte, far perdere la partita, è il compito del poeta? Lo scopo della sua vita? Si pone la domanda, qui ci sono anche delle rime, fate attenzione, rime, assonanze, insomma, non è male. E si pone questo dubbio, non dà risposte, potete voi, diciamo, provare a dare risposte. Vabbè, nella poesia del poeta esprime una certezza, un dubbio, da cosa lo deduci? E vabbè, ve l'ho detto io, ok? Analisi, completa la tabella seguente, primo verso, quante sillabe, come si chiama il verso? E ce la potete fare, su, su, su. Prova tu a scrivere una poesia di quattro versi che descriva lo scopo di un mestiere al tuo piacimento. Lo scrittore, l'insegnante, l'impiegato, il poliziotto, l'astronauta, usa lo schema di rime a B a B. Eh, provate, dai, il professore, dai, perché no, perché no, potete fare tutto, siete giovani, belli e forti, ok? Allora, Aldo Palazzeschi, scrittore e poeta italiano, celebre esponente del futurismo. All'inizio, sì, aderì al futurismo, poi fece tante altre cose. Palazzeschi, in realtà, è più famoso come romanziere che come poeta, però, nelle antologie ci trovano sempre le sue poesie, perché sono molto divertenti, sono le poesie quasi folle che si trovano, si fanno in terza, vedrete. Allora, abbiamo dei Palazzeschi, come vi ho detto, è più famoso come romanziere che come poeta, infatti, ho qui i due suoi romanzi più famosi, il primo, che è il Codice di Perelà, che in effetti era tipologia futurista, e poi questo qui è pure il più famoso, sicuramente, Sorella e Materassi, si hanno fatto anche dei film televisivi, insomma, un grande successo, così potrebbe anche definire in questa maniera. Bene, allora, e si chiede, qui, Palazzeschi, ma sono forse un poeta? E dice di no, e poi nega di essere tante altre cose, finché non arriva a mettere di essere semplicemente quello che vedremo alla fine della poesia, va bene? Allora, nega di essere un poeta, anche se poi proprio in versi, quindi nega di essere un poeta facendo una poesia, paradosso, ci spiega che la poesia serve a mettere a nudo il proprio cuore. Sono forse un poeta? No, certo. Non scrive con una parola ben strana la penna dell'anima mia, follia. Sono dunque un pittore? Neanche. Non ha che un colore la tavolozza dell'anima mia, malinconia. Un musico, allora? Nemmeno. Non c'è che una nota nella tastiera dell'anima mia. Nostalgia. Sono dunque che cosa? Io metto una lente davanti al mio cuore per farlo vedere alla gente. Chi sono? Il salto in banco dell'anima mia. Ragazzi, salto in banco, se non lo sapete, ma spero di sì, è insomma il buffone, poi c'è l'artista di strada, quello che si esibisce facendo acrobazie, eccetera, eccetera, quindi un giullare, sono il giullare, il buffone dell'anima mia, quello che mette in mostra la propria anima, cercando di renderla divertente, metto una lente davanti al mio cuore per farlo vedere alla gente, quindi, che sono? Io un poeta? No. Pittore no. Musico no. Sono un salto in banco, un salto in banco che mostra a tutti la mia anima. Il poeta ferma di non essere, eh, eh, cosa dice il poeta di fare e di essere? Beh, oh, oh, attenzione anche qui, esercizio di lettura espressiva. Prima di leggere ad alta voce, poni particolare attenzione ai segni di punteggiatura ed evidenziali. Che uso ne fa il poeta? Leggi ora ad alta voce con le pause e l'intonazione adeguata. Bene. Vabbè, come vedete, c'è anche una certa anafora qui, son forse, son dunque, no, 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 e poi c'è una parola che fa rima alla fine di le prime tre strofe, va bene, eccetera, quindi, poi la rima ritorna anche alla fine saltimbanco dell'anima mia, follia, malinconia, nostalgia, anima mia e probabilmente non è un caso. Ok. Allora, altri esercizietti sulla posia di Balazzeschi, eccoli qua. Prova anche tu a dare una differenzione di te stesso in un componimento di cinque strofe. E perché no? Segui la scaletta che ti proponiamo. Nelle prime tre strofe chi non sei? Nella quarta strofa che cosa fai? Nella quinta strofa che cosa sei? Dai, può essere divertente, no? Allora, l'ultima poesia di questa serie qui è di Alda Merini. Alda Merini è probabilmente il più famoso poeta italiana del momento. Tutti la citano, tutti la leggono, pare che non si può vivere senza di lei. Ok? Nata nel 31, morta nel 2009, ha vissuto una vita di povertà e di stenti fino a lungo tratto della sua vita. È stata rinchiusa in manicomio, viveva non si sa come. Poi a un certo punto ha cominciato a diventare famosa, tutti la volevano, tutti la cercavano, insomma. Quindi ha cominciato a migliorare la propria vita. Va bene? Io ho questo libro qua di Alda Merini. Come vedete, Fiore di poesia. Scusate, mi ingrandisco. Ecco. E ho anche questo disco di canzoni fatte su poesie appunto di Alda Merini. Da questo disco potremmo anche ascoltare la stessa Alda Merini che recita una sua poesia dedicata a questa cantante. Io in verità ho questo disco più per amore della cantante che della poetessa però lei era molto brava a leggere se stessa quindi ora ve lo faccio sentire così poi vi potreste immaginare una poesia letta con la sua voce. Ve la leggerò io ma insomma cercate di immedesimarvi in qualche modo. Adesso parte Alda Merini che legge gli occhi di Milba musicata da tale Giovanni Nuti. non occorre che io mi siedo sul letto a rivedere i sogni perduti basta guardare gli occhi di Milba e vedo la mia felicità coloro che pensano che la poesia sia disperazione non sanno che la poesia è una donna superba e la pioma rossa li ho ammazzato tutti i miei amanti perché volevano vedermi piangere e io ero soltanto felice. a rivedere i sogni perduti e io ero soltanto felice. a rivedere i sogni perduti Allora, Alda Merini, i poeti lavorano di notte Viene spiegato qui che per comporre le loro opere i poeti hanno bisogno del silenzio e della quiete della notte Ma i loro versi si fanno far sentire molto bene Ovviamente questa è una visione della Merini Non è detto che tutti i poeti la pensino così Però lei era una poetessa molto poetica, diciamo I poeti lavorano di notte Quando il tempo non urge su di loro Quando tace il rumore della folla e termina il linciaggio delle ore I poeti lavorano nel buio come falchi lotturni o dusignoli Dal dolcissimo canto e temono di offendere Dio Ma i poeti nel loro silenzio fanno ben più rumore di una dorata cupola di stelle Quindi i poeti lavorano di notte in silenzio Ma il loro silenzio è un silenzio che fa rumore Anche se l'espressione è strana perché dice che fanno più rumore di una dorata cupola di stelle Che di per sé, vi rendete conto anche voi, non fa rumore Una cupola di stelle scintilla, risplende, abbellisce Ma fa un rumore poetico, non fa un vero rumore Quindi è un surplus di metafora, un sovraccarico Quasi un cortocircuito, oserei dire E va bene, quindi provate a rispondere Che cosa favorisce il lavoro notturno dei poeti? È vero o falso che tutti i versi sono in decasillabi? È vero o falso che non ci sono rime? Vedete voi È presente una sottolitudine, sottolinea, eccetera, eccetera Ok? Allora, ragazzi, qui finisce, diciamo, il reparto dedicato alla poesia nella poesia E vi saluto Finiamo proprio ascoltando ancora Milva Gantamerini, ecco Sono aderberto Fini